segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te è stata molto seppiosa giorgia meloni oggi a brussel un pugno una carezza come la giornata normale solo preceduta dalla giornata di ieri dove c'era stato questo litigio con la germania che invece non era normale perché io non me ne ricordo il litigio per i migranti tra l'altro la germania come rappresentante anche altre nave ONG batte bandiera tedesca ed è bloccata insieme a un'altra nave di un'altra ONG dal ministero dell'interno italiano che ha chiesto ai tedeschi più dettagli e ci hanno dato una bella strattonata che non aveva precedenti quindi il giorno prima di andare in europa però in europa lei ha avuto una fortuna oggi che è stato questo colloquio prima di tutti con la mezzola e la presidente del parlamento europeo che una io vado per le spicci meno male che ci sei tu no no magari non tutti hanno presente ma certo chi è la mezzola che cos'è l'allite con la germania e la mezzola essendo allora adesso faccio l'esplicito anch'io di malta ed essendo malta pagliata con noi perché siamo i due paesi che hanno risposto picche a questa nave che voleva portarci i migranti è stata particolarmente cordiale poi è donna giovane conservatrice hanno parlato in italiano hanno parlato non ho capito perché hanno specificato per fare un complimento intanto perché la mezzola parla molto bene la nostra lingua e poi perché probabilmente anche più semplice per giuntamento il nostro comunque diciamo questo è stato un buon viatico poi gli altri incontri sono incontri che sono andati bene è stata una giornata però non è stata trionfale non è stata trionfale secondo voglio dire non è stata una giornata che non rimarrà nei libri di storia secondo te